Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto set di personaggi Biul Pinoco Pinoco. Prodotto da, grove nome del prodotto, Pullit Biul Black Jack serie B317 Pinoco. Dimensione corporea, altezza da 263 mm. Et. 15 anni. Kionsang Kiona. Ali diritti riservati. Tezuka Productions. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.